Io ero stato invitato a pranzo. Non è vero, signor Caponepato? Stupido, te l'ha detto di non dirlo, no? Come nemmeno ad Anna, che c'entra è ancora una cosa lontana. Ma l'aumento l'ho avuto. E' avuto l'aumento? Sì, proposta è già in direzione. Ci vorrà ancora qualche giorno, ma è sicuro. Che giornata!